Adoro i lecca-lecca! Ehi, fanno pandan! È davvero magico! Oh no, come faccio a tirarlo fuori? Ok. Lo sto facendo davvero! Spero sia pulito! Preso! Wow, cosa sta succedendo? Mi sta tirando dentro! La mia mano, no! Aiuto! Oh, che figata! Julie, è lì dentro! Oh no! Aspetta, mi vengo a prenderti! E adesso? Miles! Bello, vero? Vuoi giocare? Prima le signore! Fantastico! Ehi, guarda quanti colori! Penso sia glassa! Sembrano molto buone! Allora posso aprire il mio? Ehi, guarda! Pluriball! Davvero? Wow! C'è qualcosa lì sotto! Non ne ho mai visto uno così prima d'ora! Guarda quanti colori! Sarà un'esperienza epica! Adesso lo... Aspetta! Lo prendo così! Non voglio romperlo! Lo mordo direttamente? No! Inventati qualcosa! Ci sono! La risposta è nel mio pratico zaino! O almeno spero! Guarda! È simile, no? Lasciamo stare! Non ti seguo più! Oh, guarda qui! Sembra una fisarmonica! Ma adesso non mi può aiutare! Ah! È ora di mettersi in viaggio, ragazzi! Vediamo! Aspetta! Ecco! Un cucchiaio! Finalmente si mangia! Che bel boccone! Fantastico! C'è tantissima glassa! Mmm! Wow! Ne è valsa la pena di aspettare! Sì? In effetti sembra buono! Perché lo è? Io ho solo questi! Che ci faccio? Mmm! Un attimo! Ci sono! Realizzerò qualcosa di buono! Comincio dal verde! Basta spremere la glassa su un foglio di carta da forno! Proseguo con le altre tonalità, utilizzando il bianco per separarle! E poi in forno! E adesso glassa a volontà! Non preoccupatevi, ora la stendo! Meglio! Ma non ho ancora finito! Arrotoliamo! Fino in fondo! Ta-da! Lo metto in un bel piatto grande! Stupendo! E ho fatto tutto da zero! Che stregoneria è questa? Mi viene la colina in bocca solo a guardarlo! Aspetta di vedere l'interno! Mmm! Il primo pezzo è tutto mio! Bello zuppo di glassa! Mmm! Delizioso! Posso averne un po'? Cosa? Non sento! No! Ok, ho un'idea! Mi serve questa busta! Mmm! Pronti? Boom! Ah! L'hai sentito? Io sì! Mmm! Ah! Ma che... Non fare domande! E va bene! Pronta? Vado prima io! Fantastico! Wow! Che spettacolo! Adoro la gelatina! Ah sì? Sembra buona! E tutti quei colori divertenti all'interno! È come una festa lì dentro! Ehi! Ora io! Ma guarda! Dei semi! Aspetta! Non è quello che volevo! Uffa! Nessuno vuole certa roba! Che sfortuna! Non è giusto! Anch'io voglio la gelatina! Ma come posso farla? Un attimo! Adesso sì che si ragiona! Non mi ha visto nessuno! Sicuro? Oh sì! Guarda e ammira! Inizio con una ciotola di latte freddo! Ci verso dentro i semi! Sì, tutti quanti! Ma serve un po' di dolcificante! E cosa c'è di più dolce del miele? Credo posso abbastare! Mescolo per bene Finché non ha questa consistenza! Poi Via in frigo! Ma prima divido il composto E aggiungo un po' di colore Adoro le tonalità dell'arcobaleno! Ecco! Mescoliamo! Già va meglio! Wow! Ora ricompongo il tutto! Uno strato per volta! Ecco l'ultimo! Mi piace concludere con il rosso! Guarda! Un bel budino di semi di chia arcobaleno! Wow! Sembra molto bello! E aspetta di assaggiarlo! Il primo boccone è sempre il migliore! Voglio prendere tutti i colori! Un arcobaleno su un cucchiaio! Cremoso! Ah sì? Anche per me è l'ora della pappa! Ciao gelatina! Pianino! Voglio la fetta perfetta! Sì così! È perfetto! Non trovi? Già! Bene! Ecco che arriva! Wow! Guarda quanti bei colori! Ma come si fa? Non so l'importante che sia buono! Wow! È succosissimo! Ti dispiace se ne prendo un pezzo? Gnam! Non è affatto male! Cosa ci sarà? Degli schittos colorati ovviamente! Voglio mangiare quelli viola! È come un'esplosione di frutta! Cavolo! Potrei mangiarli tutti! Sul serio? Beh, io ho un piatto tutto mio! Non mi aspettavo una pannocchia! Non è proprio un dolce! Ah! Ma è cruda! Ma perché? Mi va sempre tutto male! Ehi, Joy! Cosa succede al tuo piatto? È come se i colori ballassero! Ma davvero? Ho un'idea! Miglioriamo un po' questa pannocchia! Squatiamola un po'! Che ne dici di com'è adesso? E ha un buon odore! Una delizia per gli occhi e il palato! Perché non assaggi? Wow! Ma come sono buoni! Ti dispiace se apro il mio? È davvero straordinario! Sono stati di puro divertimento! Pensi che abbia un buon sapore? Mi sfidi a provarlo? Non rifiuto mai una sfida! Io assaggio! Voglio arrivare al viola! Devo assaggiare ogni singolo colore! È un arcobaleno su un cucchiaio! Un arcobaleno veramente delizioso! Sì, molto buono! Do un po' di formicolio! Ecco l'io! E io? Ma sono delle piccole biglie! Fammi vedere quale... Bingo! Proverò la gialla, gente! Vediamo di cosa sta! Joy! Stai bene? È da pazzi! È più grande della tua testa! Ma che spettacolo! Sì, diciamo... Qualcuna ha dei tovaglioli? Perché ne proverò un'altra! Questa volta, rosa! Sì, questa mi piace più dell'altra! Ehi, Joy! Meglio farla scoppiare! Prima che diventi pericolosa! Forse dovrei spostarmi! Pronta? Sono il maestro delle bolle! Quanto potranno diventare grandi queste? Ok, mi devo concentrare! La mascella mi fa male! Accidenti! Sta crescendo sempre di più! Sta per scoppiare! Oh no! Devo assolutamente provarla! Ehi, ma dove stai andando? Wow! È un altro mondo qui! Wow! Sto per diventare super veloce! Non ci posso credere! Sono il cowboy degli arcobaleni! Vai, cavallo, vai! Sì, quanto mi piace! Ehi, ottimo lavoro, Joy! Adesso ho più energia! Wow, ma è pozzetto! Quella cos'è? Altra roba zuccherina in arrivo! Accidenti, non voglio più andare via! Wow, occhio! Ho di nuovo fame! Questi dolci in pronta consegna sono fantastici! No! Eh? Ma cos'è questa roba colorata? Joy? Che diavolo ti è successo? Non mi va di parlarne! Sappi solo che non masticherò più gomme! Tocca a te, Joy! Cosa ci sarà dentro queste cannucce? Dovrei mangiarle? Beh, forse se ci soffio dentro! Ups! Che cavolo! Provo in un altro modo! Forse bisogna succhiarle, no? Funziona! Figo! Tocca a me! Nudo il sarcobaleno! Che belli! Ma devo per forza usare le bacchette? Non sono tanto brava a maneggiarle! Non credo si faccia così! Forse l'angolazione non è giusta! Posso usare entrambe le mani? Che fatica! Solo un paio di mosse! Et voilà! Quanto mi piace il fai da te! E mi calza a pennello! A proposito di accessori! Ta-da! Ti piace? E adesso che cosa stai facendo? Calda muscoli, ovviamente! Perfetti! E ultimo, ma non meno importante... Wow! Una bellissima pashmina blu! Brava, Anna! Quanti colori vivaci! Sei pronta? Ma guarda quanti strati colorati! E la glassa è alla vaniglia? Non ne sono certo! C'è solo un modo per scoprirlo! Devo prenderne un bel petto? Ecco qua! Guarda quanti colori! Occhio, Joy! Sì, la glassa è alla vaniglia! Sembra buona! Forse anch'io ho qualcosa di buono! Un dollaro? E che ci faccio? Non posso comprarci nulla! Wow! Sì! Vorrei tanto assaggiare quello! Ma certo! Aspetti! Quello! No! Quello viola! In realtà... Perché non fai da sola? Allora voglio il mirtillo! Sembra buonissimo! Ma perché fermassi al blu? Anche la fragola sembra buona! E ci starà benissimo con il mirtillo! Ok! Un cono gelato a tre gusti! E forse c'è ancora spazio! Oh! Questo gusto non l'ho mai visto! Un capolavoro di gelato! Buona giornata! Oh mio Dio! Ma da dove è uscito quel sasso? E dov'è il mio cono? Tutta quella bontà persa! Occidenti! Ecco dove è finito il mio gelato! Mi dispiace Joy! Ti dico che gli unicorni sono reali! No che non lo sono! Sì invece! Va bene! Me ne vado! Se ne sono andati! Ssss! Rimarrà il nostro piccolo segreto! Disegnare! Il mio passatempo preferito! Eh? No! Che schifo! Ok! Ci riprovo! Questo è anche peggio! Non riesco proprio a disegnare un unicorno! Ehi! Sono qui per aiutarti! Guarda! Ti faccio vedere! Si inizia con la parola unicorno! Questo è il segreto! Vedi? E l'unicorno si disegna da solo! Ora devi colorarlo! Anche questa parte mi piace un sacco! Le criniere arcobaleno sono di moda adesso! Ecco fatto! Finito! È così carino! Tieni! È per te! Wow! Grazie mille! Bene! È ora di valutare questi test! Oh! Che dettaglio carino! Questo merita una più! Il prossimo! Uh! Questo è semplicemente terribile! Altro che carino! Qualcuno deve essere più ordinato! Sì, ordinato! Cosa? Ma che valutazione è? Beh, non ha tutti i torti! Come hai fatto a fare quel dettaglio? Oh, questo? È facile! Oh, ho capito! Iniziamo a fare un po' di origami con gli unicorni! Assicuriamoci che le pieghe siano giuste! Non vorrei per sbaglio creare un drago! O peggio, un troll! Non sia mai! Pieghiamo il foglio con attenzione e precisione! Ora un passo più difficile! Infiliamo questa piega! Bene, adesso appiattiamola per bene! Prossimo passo, iniziamo a disegnare! Partiamo con un occhio! E ora la criniera arcobaleno! Poi il corno! Finito! Non consegnerò più test disordinati! Ecco il mio test! Ora è più ordinato! Fammi dare un'occhiata! Molto bello! Anche tu meriti una più! Wow! Cavolo! Ce l'ho fatta! Ehi, sei... Oh no! Una festa! Una festa di compleanno! Ops! Meglio andarsene! Oh no! Oh no! Che faccio ora? Ci deve essere qualcosa che possa usare come regalo! Forse questa custodia per il telefono! È un po' banale, ma posso modificarla! Ho una ciotola! Mi serve della carta crespa! La taglierò in un mucchio di strisce! Ecco fatto! Solo un altro po'! Ci siamo! Passiamo al prossimo passo! Dell'acqua calda! Quanto basta per coprire il tutto? Bene! Ora prendo la custodia e la immergo nella ciotola! Assicuratevi che sia completamente immersa! Aspettiamo qualche minuto che si raffreddi! Tempo scaduto! Il colore si sarà trasferito sulla custodia! Aggiungo alcuni adesivi per personalizzarla! E non dimentichiamo un bel fiocco di compleanno! Le piacerà! Ehi! Buon compleanno! Non l'ho mica dimenticato? L'hai fatta per me! È perfetta! La uso subito! La uso subito! Oh! Quanto è carina! La adoro! Oh! Ci è mancato poco! No! Questo non va bene! Ma che diamine! Smettila! Che c'è? È inutile! Non ho niente da mettere! So come rimediare! Che ne dici di questo? Non ho un costume da ballerina! Sì, ma io ho il tulle! Ok, iniziamo con il blu scuro! Facciamo un mucchio di strati! Poi ci serve una benda elastica! Non servono macchine da cucire o altro! Leghiamo il tulle intorno all'elastico! Perfetto! Ora aggiungiamo altri colori! È un bellissimo arcobaleno colorato! Mi sento l'unicorno più bello di tutti! Wow! È venuto bene! Divertiti alla festa! Dov'è il mio quaderno? Bel disegno, Jake! No! Il mio quaderno! Jake! C'è del tè dappertutto! Mi dispiace! Non sapevo fosse lì! Era anche il mio preferito! Cavolo! Ora mi sento in colpa! Ehi! Forse posso risolvere! Questo foglio con brillantini in materiale espanso mi sarà utile! Mi servono le mie fidate forbici! Ritaglierò delle forme colorate! Bene! Adesso passiamo al quaderno! È ora di fare un unicorno! Con la criniera arcobaleno, naturalmente! Se poi è colorata e scintillante, ancora meglio! Passiamo alle lunghissime ciglie! Credo le piacerà molto! Ehi! Mi dispiace per il quaderno! Non ci credo! Fantastico! Non ci credo che hai fatto questo per me! Grazie mille, Jake! Uh! Crisi evitata! Tutte le mie matite sono perfettamente ordinate! E naturalmente questa è la mia preferita! Ehi! Come va? Tiriamo fuori le cose per la lezione! Uh! La mia matita ha visto giorni migliori! Non scherziamo! È un pasticcio! Beh, non preoccuparti, Jake! Posso aiutarti! Smalto per unghie? No, grazie! Non è per le unghie! Oh! Per la matita! Bene! Ho una ciotola con l'acqua pronta all'uso! Ora verserò questo smalto! Proviamo a disegnare qualcosa nell'acqua! Aggiungiamo altri colori! Ora è il momento di immergere la matita! La faccio roteare attraverso lo smalto! Fantastico! Guardate che colori! Wow! È come un'opera d'arte! Jake, è venuta benissimo! Grazie mille per il suggerimento! Giriamo la ruota! Dove si fermerà? Un arcobaleno! Non vedo l'ora! Wow! Ma da dove è uscita? Quanti pop it! Wow! Sara! Guarda qui! Wow! Che fortuna! Tutto qua! Una campana e basta! Ok! Immagino debba suonare! Oddio! Un unicorno ballerino! Adorabile! Grazie mister unicorno! Ciao ciao! Cereali a unicorno! Gnom! Non male, eh? Iniziamo! Wow! Non ho mai visto così tanti pop it! Sarà divertentissimo! Non finisce più! Ce ne sono altri! Hai visto? È pienissimo! Chissà quanto ci metterà a giocare con tutti questi! Pazzesco! Ok! Tocca a me! Per fortuna ho sempre una ciotola e un bicchiere di latte con me! Ecco qua! Che bei colori! Non vedo l'ora di provarli! Impeccabile! Ehm... Mindy! Tutto ok? Sto bene! Ok! Sarò da te tra un minuto! Fammi sapere se ti serve una mano! La giriamo insieme! Uh! Blu! Guarda! Un anello! E io della soda! Ora me lo provo! Mi sta benissimo! Finalmente ho trovato il vero amore! Mi vuoi sposare? Oh mio Dio! Grazie amore mio! È mio! Ehi! Lasciami! Nom 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 nom! Basta! Ciao! Ok! È stato strano e si è pure preso il mio anello! Così divertente devo dire! Ok! Assaggio la mia bevanda! Sarà buonissima! Wow! Guarda qua! È super blu! E credo serva un ingrediente in più! Un po' di polverina magica! Ecco qua! Ma sì! Ce ne metto un sacco! Mi serve una cannuccia! Diamo una bella mescolata! Funziona! Che bello! Yum! Eh... Mindy? Non ci credo che si è preso l'anello! Ci sono rimasta malissimo! Ho una cannuccia in più! Metto la soda in mezzo! Mindy assaggia! Davvero? Wow! Che buona! Ah! Quindi io o te? Io! Speriamo sia qualcosa di carino! Rosso! Uh! Wow! Ottimo! Vroom vroom! C'è dell'altro! Sembra divertentissimo! Chissà cosa fa questo tasto! Wow! Guarda qua! Uh! Ups! Scusa! Non va bene! Mangerò le mie caramelle! Come sono piccole! Ma buonissime! Mangerò anche le altre! Le adoro! Oh! Vorrei anche io avere delle caramelle! Credi tornerà! Aspetta! Anche qui ci sono! Non me ne ero accorta! Ora le assaggio! Ecco qua! Buonissime! Ehi! Questo di chi è? Oh! Non guardare me! È il suo! Sara! Perché? Tieni! Grazie! Oh! Molto carina! C'è solo una cosa da fare! No! Ti prego no! No! È stato un incidente! Basta! Ah? Wow! Fighissimo! Grazie alieno! Aspetta! Ma che fai? Mi metto in viaggio! Ma... Non ci crederà nessuno quando lo racconteremo! Lo so! Wow! Posso girarla? Ok, vai! Viola! Oh! Un telefono! Che carino! Sì! Wow! Che figo! Wow! Adoro questa challenge! Selfie! Adorabile! No! Non è giusto! Non faccio io le regole! Non è giusto! Devo fare una chiamata! Ehi! Mi serve il tuo aiuto! Sì, è urgente! Una cosetta innocente! Cosa? È lei! E va bene! La fotocamera mi adora! Cosa è successo? Ha funzionato! Grazie! Pagare! Wow! Com'è faticosa! Ne è davvero valsa la pena! Grazie! Ciao! Sei stata tu! Che cattiveria! Non so di cosa parli! È solo un gioco! Vedi? Aspetta! Ma questa è cioccolata! Oddio! Buonissima! Potrei mangiarla all'infinito! Oh, ma dai! Oh, sì! È un lecca-lecca! Che odorino! È buono! Oh, sì! Oh, sì! Gnam! Tocca a me! Rosa! Wow! Rose! Che romantico! E sembrano buone! Ecco qua! Wow! Buonissima! Wow! Ehm, pronto! Sto aspettando! Siamo alle solite! Non ho mai avuto tutte queste rose! Ho un'idea! Funzionerà! Ma che sto facendo, Mindy? Mi serve questo nastro adesivo! Ecco! Una corona di rose! Che bello! Ma quando arriva il mio? Finalmente! Spaghetti! Beh, proviamo! Wow! Tutto qui? Eh, vabbè! Non importa! Mi piace! Aspetta un attimo! Come sto? Favolosa, vero? Mmm, fragola! Mi piace! Ne voglio ancora! Stai bene! Mangiati la tua roba! Va bene! Ti sta venendo l'acquolina in bocca! Prima però dobbiamo scegliere un colore! E il rosa non delude mai! Beh, a quanto pare una di noi ha avuto fortuna! Devo mangiare tutta questa roba! Ci si potrebbe nutrire una famiglia di quattro persone! E poi i pancake vanno con questa roba! E poi i pancake vanno con questa roba! Bebbi! Wow! Guarda che roba! Ma rimane una domanda! È buona come sembra? Respira anche ogni tanto, Tina! Ok, proviamo questo pettine! Perché no? Una bella pettinata! Aspetta! Sta succedendo qualcosa! Ma che cosa fantastica! Luna! I tuoi capelli! Oh, intendi la mia chioma da unicorno? Sei bellissima! Ehi, vuoi fare a cambio? A cambio? Sì, perché no? Perché pettinarmi quando posso mangiare? Ma che hai fatto? Mi sono cambiati i capelli! Non è giusto! Che ti aspettavi? Chi gira la ruota? Io non sto sbattendo le palpebre, Luna! Nemmeno io! Vedi? Occhi apertissimi! Ah! Non ce la faccio! Sapevo avresti ceduto! Giallo giallone! Wow! È più grande della mia testa! Una vera bontà! È buono, eh? Anche io ho una cosa deliziosa, sai! Sembra divertente! Lo giro e... È ora del dolce! Aspetta un attimo! Wow! Ma che roba è, Tina? Vabbè, io ho questa! Al limone, che buona! Ne voglio un pezzo più grande! Oh, sì! Mi serve giusto un po' di calore! È il momento di squagliarsi, amici! Ehi, si sta sciogliendo, guarda! Sta funzionando! Non dovrò più leccare per ore! Limonata super dolce! Ehi, vuoi una delle mie banane? Vai tu, Tina! E... Dammi il blu! Wow! Cos'è tutta questa roba? Idee! E per me? K-Pops blu! E ora si assaggia! Delizioso! Aspetta, ma che diavolo? È un messaggio! Qualcosa su delle bottiglie d'acqua? Sono mai stata brava in matematica? Prova! Vediamo qui! Due bottiglie d'acqua, eh? Ma una è al contrario! Ora ho capito! Facciamo un bel giro! Ok, e... Via! Ora arriva la magia vera! Si sta creando un bel movimento! Le palline stanno venendo su! Pazzesco! Si stanno attaccando tutte su! Una tempesta di palline blu! Ehi, Tina! Guarda! Ahah! E ora lo giri di nuovo! Questa è la cosa più divertente del mondo! Tocca a me! No! Ehi, l'hai fatto tu l'ultima volta! Lascia! Sa che è uscito arancione, eh? Ma perché ci hanno messo il coperchio? C'è del pesce sotto! Pantaparty! Questo è quello che credi! Prenderò questa qui! Oddio! Che ho fatto? Ehi! E ora questa come la apro? Pi bella! Guarda e impara! E ora frizzantezza! Ah! Oh sì! Mi servono solo gli strumenti adatti! Ecco qua! Ora posso fare la miscela perfetta! I bicchieri sono più eleganti delle lattine, comunque! Molto più buona! Elegante, eh? Ecco qua! Sei sicura che non si rompano? Rifatti gli occhi, mia cara! Ecco la punta perfetta! E pioggia sia! Che c'è di più elegante di una fontana? Una fontana di fanta, ovviamente! All'eleganza! E ora, quale dovrei prendere? Questo! Luna! No! Yeee! Ehi Luna! Giri tu? Va bene! Rosso! E vai! Wow! Carinissima questa mini macchina di gomme! Ma come le tiro fuori? Tocca a me! Ma cos'è? Una manina per applausi! Quindice di girare! Ma non succede nulla! Ehi! C'è qualcuno? Questa proprio non me l'aspettavo! Ma non fa niente! Adoro il rosso! Brava! Ehi! Questa non è commestibile! Gira le tonna! Lo sapevo! Che sbadata! Ma che c'è che non va? Devi aprirlo, Tina! Il tappo! Oh! Te le fanno sudare, eh? Aspre! Ups! Stavolta sta a te girare, Tina! Non si ferma più! Entro oggi! Aspetta, è il multicolor! Eccola! Beh, dobbiamo aprirla! Questo palloncino è un'opera d'arte! Senti qua! Wow! Questi sì che sono colori ceri! E anche dei dolci! L'ho girata io! L'ho preso prima io, Luna! Dammelo, dai! Oh, le cose stanno così! Non sfidarmelo! Basta! Usiamo la striscia di caramella, ok? Ok, buona idea! Fatto! Tre, due, uno... Via! Chi finisce per prima, si prende la cioccolata! La mia bocca sta andando più veloce che può! Forza, labbra! Muovetevi! Come hai fatto a finire tutto? La tua bocca è molto più grande della mia! E tutta la cioccolata me la prendo io! Guarda che mostro! Buono il sapore della vittoria! Spero ti venga il mal di stomaco, guarda! Sei pronta? Uh, interessante! Wow, guarda! Mi sono una dottoressa! Ora lo provo! Mmm, mamma mia quanto è buono! Devi assaggiarlo! No, passo! Mindy? Stai bene? Ho detto! Assaggia! Assaggia! Credi che correre ti salverà, eh? Stai alla larga! Torna qui! Aiuto! Ma dove è andata? Tu non mi hai vista! Ti troverò! Oh, c'era quasi! Ve l'ho detto! Non si scappa! Ops! Dovevo guardarmi dietro! Ah? Era solo un sogno? Ehi, mi hai sentita? Devi assaggiarlo! Oh, certo! Dimenticavo! Guarda qua! Wow, spero sia la fragola! Ecco qua! Ma è buonissima! Ne voglio altra! Ottima idea! Chissà che avremo stavolta! Vado prima io! Perché ho una mappa? Oh, certo! È una mappa del tesoro! Ok, io sono qui! Iniziamo a capire bene! Oh, sembra il posto giusto! Mica è facile cercare i tesori! Sì, ci sono riuscita! Ho trovato il tesoro! Sarò ricchissima! Non ci credo! Meglio dell'oro! Wow! Che odore fantastico! Beh, spero sia qualcosa di carino! Un iPhone! Wow! Sono in un videogioco! Oh, guarda tutta questa frutta! Divertente! Dovrei giocarci più spesso! Siamo tornate! Mmm, ha proprio un bel aspetto! Ora assaggio questa palla di gelatina! Speriamo sia buona come sembra! Mmm, pazzesca! Wow, beata te! Quale frutto mangio per primo? Partiamo dal limone! Mi sembra una buona idea! Sa di succo! È delizioso! Potrei berne tutto il giorno! Ok, e ora questo! Gnam! Posso andare prima io? Vai! Cosa? Ma non c'è niente! Wow, pizza! Anzi, meglio! Una pizza di caramelle! Le mie due cose preferite! Mmm! Buonissima! Che invidia! Patatine fritte! Che delusione! Speravo in qualcos'altro! Lo so! Il mio campus estivo ad Hogwarts tornerà utile! Ecco qua! Ecco la pentola preferita di mia madre! È perfetta! Sarà uno spettacolo, Lily! Mettiamo il pop-it! E le patatine! Ora mescolo con la mia bacchetta magica! Cioè cucchiaio! Snack magicus! Sta funzionando! Ma almeno sai che stai facendo! Guarda qua! Patatine pop-it! Gommosissime! Dovrei farlo più spesso! Bene! E che altro sai fare? Fantastico! Insieme! Vai! Oddio! Di nuovo! Forse potremmo... Oh! Lily! Guarda! Cosa? Cos'è? Wow! Come butta! Ecco qua! Buon appetito! Cos'è? Ehi! Ok, ora controllo! Sono vermi? Ah! Oddio! Io quelli non li mangio! Aspetta! Non sono vermi e fangoveri! Sono vermi di gomme e cioccolata! Mi piacciono! È come mangiare gli spaghetti! Ma io non ho avuto nulla! Ehi! Ehi! Yuhu! Wow! Che figo! Una testa di alieno! Sapevo che esistevano! Scusa! È meglio il mio piatto, Lily! Nessun problema! Però prendo un occhio! Sembra buono! È buono come sembra! Assaggialo! Oh sì! Ora lo faccio! È pesante! È grande! Spero di non essere teletrasportata da un UFO! Wow! Buonissimo! Una roba non di questo mondo! Ah! Aspetta! Anche io mi mangio qualche verme! Non vedo l'ora! Vai! Uffa! Comincia a stufarmi questa cosa! Ok! Tocca a me! Una conchiglia! Wow! Che strano! Chissà se posso sentire il mare! Pronto? Oh! Una chiamata! Pronto? È davvero una sirena! Oh mio Dio! Non ci credo! Puoi mandarmi un regalo! Come no! E ora una magia da sirena! Lily lo adorerà! Questo è il giorno più bello della mia vita! Wow! Grazie! È bellissimo! C'è qualcosa qui! Oh che carino! Voglio assaggiarlo! Mi piace il pesce! Appena vedo il cibo mi viene troppa fame! Ne voglio altri! Fai troppo ridere! Sorridi! Non ci credo! Che imbarazzo! Fa vedere! Sono bruttissima! Cancellale! Ma è per ridere! Ok! Le cancello io! Dammi il telefono! Ehi! Calmatevi! Ok! Come volete! Lascialo! Cos'è successo al mio telefono? Non ci credo che ridere! Sembra una caramella! Buonissimo! Ecco così non potrai più farmi foto imbarazzanti! Sta per iniziare lo show! Forza accendi! L'adoro! È l'unicorno arcobaleno più bella di sempre! Un grande saluto a tutti i miei fantastici amici! Oggi prepareremo un sacco di cose buone! Siete pronti? Useremo il colore rosa! Fatemi vedere che sapete fare! Abbiamo setacciato la casa alla ricerca di alimenti rosa! Mi sembra un ottimo risultato! Adesso invece scegliamo il blu! Avete degli alimenti blu che possiamo usare? Sì, sapevo che oggi avrebbe scelto il blu! Sono preparatissima un sacco di merendine blu! Anch'io! Bene! Qual è il prossimo colore? Ok, vediamo! Arancione! Avete qualcosa? Una tonnellata di cose! Oh, grande lavoro ragazzi! Brave! Una bella selezione di alimenti che formano un arcobaleno! Oggi faremo l'arcobaleno più buono in assoluto! Che succede al cibo? E a noi? Oh mio Dio, dove siamo? E guarda come siamo! Non ci credo! Siamo nella tv con la nostra unicorna! Ciao ragazze! Spero siete pronte per la mia sfida! Oh cavolo, adoro le ciambelle! Ma le ciambelle colorate sono ancora meglio, non è vero? Oh mio Dio, credo che questa sia la prima sfida! So cosa fare! Aspetta! Che c'è? Mi prendi sempre le cose! Oh, incredibile! Stai già mescolando l'impasto! Certo, sono molto brava a cucinare! Verso l'impasto in questo recipiente! Dovrebbe bastare! Aggiungo un po' di colorante! Cominciamo con il blu! Prendo il sacchetto adesso e lo sfremo un po'! In questo modo mescolerò il colore! Ottimo! È arrivato il momento dello stampo per le ciambelle! Uno alla volta userò dei colori diversi! So già che il risultato sarà bellissimo! Ho fatto abbastanza impasto, sì! Ecco il tocco finale con del giallo! Hanno un aspetto fantastico! Mettiamoli subito in forno! Beh, anch'io sono in grado di preparare qualcosa! Non voglio creare da zero! Il procedimento è quasi sempre noioso e lento! Ecco qui delle piccole ciambelle che posso colorare! Che carine! Non riesco a scegliere il mio colore preferito! Un po' di zuccherini le renderanno ancora più invitanti! Oh, la bellezza di queste ciambelline mi fa quasi piangere! Devo provarne una! Au! Verde, sei stata cattiva! Ecco qui! Sono rimaste nel forno il tempo giusto! Mmm, posso già dire che hanno un buon profumo! Ovviamente sono coloratissime! Beh, le ciambelle devono assolutamente avere delle decorazioni! Le immergerò una per volta in questa glassa! E poi le passerò sopra gli zuccherini! Oh, wow! Le mie piccole ciambelle arcobaleno sono carinissime! Cavolo, odio le mie ciambelle! Wow! Le tue sono bellissime! Sei in arresto per violazione di domicilio! Aspetta, senti anche tu questo odore? Sì, un buon odore! Aspetta, se ne è andata! A questo punto vado! So che viene da qualche parte! Da questo tavolo! Credo che mi nasconderò! Qualcuno di voi ha combinato qualcosa, vero? Va bene, lo confesso! Sono stata io a derubare la banca! Agente, faccia il suo lavoro e mi porti via! Ma che? Come faceva ad avere tutto quel loro in tasca? Chiunque abbia preparato queste ciambelle merita una statua! Oh mio Dio, sono così buone! E quella roba lì? Oh, niente, è meglio metterla via! Se lo dici tu, comunque delle ciambelle buonissime! Decisamente conviene rimanere nascosta! Accidenti, c'è mancato poco! A chi non piace un buon uovo soprattutto a colazione? Ok ragazze, preparate delle uova! Uova, davvero! Che roba noiosa! Beh, diamo almeno un'occhiata e scopriamo che abbiamo qui sotto! Davvero? Uno, due, tre, quattro, cinque... Ok, ci sono! Ed eccola che ce ne va! Che mi invento per questa sfida? Mi è venuta un'idea! Ma mi servono gli strumenti giusti, pronto? Sì, vorrei fare un ordine! Grazie! Oh, eccolo qui! Sono molto soddisfatta della velocità! Ecco le uova, devo soltanto aprirle! E separare i tuorli dagli albumi! Adesso verserò i bianchi nel mio piccolo aggeggio! E aggiungerò del colorante alimentare così! Mescolerò il tutto usando questo bastoncino! Che bel blu, vero? Inserisco questo piccolo top e poi il coperchio! Devo assicurarmi che sia ben stretto prima di procedere col prossimo passo, ovvero mettere tutto in una pentola piena d'acqua! Facciamo bollire per poter cuocere gli albumi, che non sono più bianchi visto che ho aggiunto il colorante! Apriamo e vediamo come sono venuti! Guardate che bello! È tutto blu e ha la forma di un cuoricino! Adesso aggiungo i tuorli! Wow! Anche questi devono essere cotti, quindi l'aggeggio torna di nuovo sulla pentola! Dovrebbe essere sufficiente così! Togliamoli dagli stampini! Ed ecco fatto! Sì, che bello! Il risultato è perfetto! Li tiro fuori dagli stampi e li metto su un piatto! Guardate quanti colori e quante forme! Sono sicuramente le uova più belle! Wow, sono bellissime! Vieni qui, stupito uccello! Ehi, guardate quest'uccello! Dovevamo creare delle uova, arcobaleno, non un uccello! Uova? Non credo di aver ricevuto quel messaggio! Bene, con che cosa giochiamo adesso? Noodle! Chi non ama i noodle? Ovviamente voglio che siano colorati! Noodle, arcobaleno, per favore! Ah, noodle, arcobaleno! Questa volta non so proprio come fare! Hai qualche idea? E questo spuntato dal nulla? Vediamo! Ehi, non c'è niente! Qui è vuoto! Eh, cara tontolona, guarda il piatto! Oh, il piatto! Ma certo, sapevo che la roba era lì! Sembra che ci siano dei noodle istantanei! Anche il colorante alimentare! Ehi, dammelo! Aggiungo del colorante in questa ciotola piena d'acqua! Fatto, il rosso dovrebbe essere sufficiente! Adesso aggiungo i noodle! Mescolerò bene, sia per idratare gli spaghetti che per mescolare il colore! Guarda un po'! Sono diventati rossi! Adesso devo soltanto aggiungerli al piatto con gli altri noodle! Hanno anche un ottimo profumo! Non credi? Cos'è questo delizioso aroma? Incredibile! Wow! Ehi, non puoi mangiare gli spaghetti con le mani! Rimani qui! Prendo gli utensili! Nutella! Buonissima! E qui cosa abbiamo? Perché mi hai spezzato il cuore? Wow! Sembra un'anima in pena! Sono esausta solo a guardarla! Non mangiare i noodle con le mani! Ci sta mettendo una vita! Quanto devo aspettare ancora? Questi noodle sono miei! Ehi! Fermati! Sta mangiando i noodle! Eccolo che arriva! Meglio prenderli e scappare! Ho trovato le forche... Ma dove sono finiti i noodle? Pensa di potersi nascondere da me? Seguirò le tracce di noodle! Oh! Mi hai trovato? Non posso credere che tu li abbia mangiati tutti mentre non c'ero! Beh, non tutti! Ce n'è ancora qualcuno per te! Vediamo! Ecco qui una nuvola e... Boom! Ecco la prossima sfida! Nuvola arcobaleno! Bellissime, vero? Allora, cominciate! Cosa? Nuvola arcobaleno? Non era una sfida sul cibo? Stavolta devo concentrarmi bene! Masta, ecco perché non riesco a concentrarmi! Ok, dimmi la tua idea! Ti piacerà? Vedi questa lampada? Potremmo utilizzarla! Cosa? No, non ci penso neanche! E tu invece? Semplice! Individuiamo una nuvola che ci piace, la prendiamo all'agio e la tiriamo giù! Penso che potrebbe funzionare! Quest'idea mi ha convinto! Sì! Penso di potermi inventare qualcosa! Devo solo indossare la tuta giusta! Anche il casco è a posto! Sono pronta a prendere la mia nuvola! Ci vediamo dopo! Eh, ciao! Io che posso fare? Comincio a pensare! Sono sicura che il mio cervello riuscirà a trovare un'idea! Wow, qui è così buio! È anche vuoto! Fame! Questo piatto da dove è arrivato? Adoro i waffle ripieni! Che buon profumo! Ah, giusto! Mi ero immaginata tutto! Aspetta! So come posso fare! Verserò un po' di questo impasto in diverse ciotole! Saranno buonissime, lo so! Devo assolutamente aggiungere del colore! Questo è il tema della sfida! In questa ciotola metto il rosso e lo mescolo bene! Faccio lo stesso col blu, il giallo e il viola! Ecco! Tutti gli impasti sono colorati e pronti! Ne metto un po' sulla piastra dei waffle! Non troppa, perché voglio creare un waffle arcobaleno, quindi devo aggiungere anche gli altri colori! Fatto! Cominciamo a cucinare questi waffle! Ta-da! Il mio waffle arcobaleno è riuscito! Aggiungo della panna montata ed ecco delle nuvolette che accompagnano l'arcobaleno! Guarnisco con degli zuccherini! Questo piatto è decisamente colorato, l'adoro! Ok, dovrebbe bastare con questo finito! Sì! Wow, onestamente penso che questa sia la cosa più incredibile che abbia mai fatto! Oh, sei tornata! Com'è andata? Alla grande, guarda la mia nuvola! Aspetta, dov'è? Che sfiga! Wow, ma quel waffle l'hai fatto tu! Dammelo, non posso credere che l'abbia fatto senza di me e tra l'altro è buonissimo! Dovrebbe essere per... Beh, immagino tu possa prenderlo! Entrambe avete fatto un ottimo lavoro, bravi! Eccoci qui! Wow! Mai visti i cubetti di ghiaccio così? E per me? Wow! È la torta più bella del mondo! Solo un assaggino! Ok, un assaggione! Yum! Oh, dolcissima! Potrei mangiarla per sempre! Ehi! Anche io voglio una torta! In effetti, ripensandoci, c'è un altro modo per mangiarla! Tada! Ah, una spatola? Aspetta, non va bene! Oh, cavolo! Un attimo! No, troppo piccole! Ah, so come fare! Con questo sistemerò le cose! O forse le scioglierò! L'aria calda non è mai stata così piacevole! Forza! Eccoci qua! Magnifico! Questa l'ho tenuta per un'occasione speciale! Buonissima! Ehm... Luna? No, non la mangerò mai! Aha! Ehi! È la mia cannuccia! Mi serve solo il bicchiere! Oh, ecco! Guarda e impara! Si taglia come il burro! E quando lo togli... Hai una torta nel bicchiere! Sto benissimo qua dentro! Ottima trovata! Ti dispiace se assaggio? Grazie! Ne ho proprio bisogno! Che succede? Oh sì! Che buona! Non preoccuparti per me! Prima io! Posso? Ok! Questo lecca-lecca è enorme! Ce l'avrai anche tu! Beh, speriamo! Ehi! Non c'è nulla qui! Non ha senso! Oh no! Che brutto! Ehi! 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 Fammi fare qualche magia! Ci sono quasi! Wow! Come hai fatto? Puoi... Oh, certo! Solo un altro po' di magia! È abbastanza per te? Oh, non sapevo che potessi farlo! Oh, l'acquolina in bocca! Che odore! Mmm! È proprio zucchero filato! Sì! E si scioglie in bocca! Mmm! Delizioso! Ottimo! Lizzy? Sei illuminata come un albero di Natale! Ehm... Cosa? Oh! Le mie mani! Brillo dalla testa ai piedi! Calmati! Hai peggiorato ancora di più la cosa! Oh! L'hai fatta apposta! Fiu! Questa attesa mi sta uccidendo! Oh! Beh... Deludente! Che abbiamo sbagliato! Che spreco di tempo! E ora che facciamo? Qualcuno ha ordinato da bere? Scusate l'attesa! C'è tanta scelta! Ehi! Oh! Ho dimenticato la cosa più importante! Guardate che bollicine! Ora saranno buonissimi! Cin ragazze! Alla nostra! Mmm! Buonissimo! Quindi posso berlo? Anche il bicchiere è buono! Non ci credo! Devi provarlo! È commestibile! Mmm! Oh! Meglio di quanto pensassi! Meglio anche della bevanda! Io prendo la blu! Arancione! Verde! E giallo! Puoi anche mischiare i sapori! Mmm! Agrumi di vini! Yum! Potrei mangiarli per sempre! Non è stato il posto perfetto! Sento che stavolta ci andrà bene! Vediamo un po'! Wow! Non so quale sia il migliore! Scopriamolo! Dai! Guarda questi colori! Hai fame? Sto morendo! Sto morendo! Uno, due, tre! Oh! Si sciolgono in bocca! Mmm! Ah sì? Aspetta! I miei non sono così piccoli! Certo! Devo solo sistemarli! Pronti! Perfetto! Ah? Ora posso mangiarli in un solo boccone! Apro bene! Forza! Oh sì! Così si fa ragazzi! Come posso competere con lei? Mmm! Mmm!